barone vassallo 30 dicembre 2022 buonasera a tutti allora questo sarà un video corto sarà un video ve lo ammetto probabilmente che alcuni non comprenderanno però credo che sia il video più giusto da emettere in questo momento allora noi abbiamo avuto i partiti del dissenso il partiti del dissenso che dovevano contrastare la balla raccontata allora naturalmente una persona che ha visto e ha vissuto tutto questo avrà preso delle posizioni allora avrà preso delle posizioni a favore di un camionista puzzolente avrà preso delle posizioni su di una dottoressa baldanzosa avrà preso delle posizioni su un avvocato di provincia avrà preso delle posizioni su una pasticcera che espletava i propri bisogni fisici fuori dal suo locale avrà preso posizioni su un venditore di tisane un venditore di tisane che voleva anche la moglie insieme a lui quando c'è stato il diciamo così le finte elezioni e naturalmente tanti altri tanti altri che obiettivamente come ad esempio un cabarettista un cabarettista che ha fatto anche dei film anni settanta o comunque un cabarettista toscano che ha recitato determinati tanti ruoli in dei momenti tutti i personaggi che ad oggi dovrebbero dire dovrebbero mettersi in contrapposizione di tutto quello che sta trapelando sta uscendo sta rigenerandosi in questi giorni e invece la verità qual è la verità è che in questo momento l'unico partito le uniche persone che hanno mantenuto fermo il punto della situazione hanno questo simbolo motore italia motore italia motore italia siamo noi motore italia è un partito che non ha mai dimostrato di essere corrotto di essere venduto di essere allineato al racconto continuo e voi potete contrastare potete dire i vostri giudizi su quello che volete potete dire che non vi sta bene a non vi sta bene b non vi sta bene c però l'unico soggetto politico che ad oggi ha mantenuto una linea ferma ferma su tutto quello che era la balla su tutto quello che era il contrastare i personaggi politici attuali ma attuali io parlo dall'estrema sinistra ad arrivare all'estrema destra è inutile che ci giriamo attorno l'unico soggetto politico che ha sempre contrastato naturalmente con tutti i suoi elementi interni è stato motore italia allora adesso io vi faccio questa domanda ci sono stati dei camionisti ci sono stati dei pass delle pasticcere ci sono stati degli avvocati ci sono stati personaggi da va spettacolo personaggi che facevano i filmetti anni 70 dove sono adesso vi faccio questa domanda tutti questi personaggi che fingevano di essere contro un determinato pensiero ditemi voi ad oggi 30 dicembre 2022 quindi siamo quasi a gennaio 23 dove sono dove sono andati a finire ditemi voi se carlo negri e tutti noi che facciamo parte del partito politico motore italia non siamo gli unici gli unici anche in questo momento in cui tutto sta ricominciando ditemi voi se non siamo gli unici che hanno mantenuto dall'inizio alla fine dall'inizio alla fine senza soluzione di continuità il nostro obiettivo e il nostro pensiero io faccio questa domanda a tutti coloro che tifavano per l'avvocaticchio per il camionista per la pasticcera per il personaggio di ava spettacolo che faceva il rivoluzionario andava contro tutto questo però gli è stato dato un appalto per fare determinati spettacoli spettacoli nei nei vari cabarettismi di roma e quindi è scomparso dalle scene ma quanti ne sono scomparsi dalle scene ditemi voi la pasticcera che espletava i propri bisogni fuori dalla sua pasticceria dove sta ditemi voi l'avvocaticchio di provincia dove sta ditemi voi il personaggio il camionista che pregava in piazza dove sta ditemelo voi e ditemi anche se con certi metodi con certi metodi con certe soluzioni quale possa essere stato il risultato in questo momento io posso soltanto dirvi di dare fiducia dare fiducia assoluta a questo partito noi siamo noi motore italia noi siamo gli unici che non si possono comprare siamo gli unici che combattono la guerra senza soluzione di continuità siamo gli unici che anche di fronte a minacce denaro e tutto il resto non cediamo quindi siamo al 30 dicembre io voglio farvi voglio farvi questa promessa iscrivetevi a motore italia iscrivetevi andate sulla nostra piattaforma potete trovare liban costa solo 10 euro iscrivetevi perché ricordatevi una cosa hanno finto che tutto fosse finito in realtà era solo una balla quindi da qui in poi inizierà una guerra terribile in cui ognuno di noi solo solo soccomberà ognuno di noi solo non potrà vincere questa battaglia ricordatevi quello che è successo in passato volete vivere quel momento volete rivivere quel momento volete rivivere questa situazione assurda io dubito poi ognuno ai propri gusti però ragazzi non è un gioco non è un gioco ricordatevi iscrivetevi a motore italia ci vediamo domani ciao a tutti